Mi chiamo Zainz. Non caccao fantasmi finché non ho avuto un incontro ravvicinato. Così è cominciata la mia ricerca per catturare su video ciò che avevo visto. C'è qualcuno? Il diavolo! Mio Dio! Siamo una piccola squadra di occultori del investiga-pult. Con me ci sono i miei amici cameraman Nick Goodwin e Aaron Groff. Noi tre sceglieremo alcuni luoghi dove sono stati segnalati fenomeni normali. Trascorreremo all'interno di questi luoghi tutta la notte. Dal tramonto all'alba. Alla la... Se questa è la porta dell'inferno perché non vieni su a prenderci? Ore dure. Qualcuno mi ha graffiato! Estreme. Fermi cazzo! Fermi! Non correte! Queste sono le nostre avventure.